Bene, diamo la parola adesso a Damiano Lembo, Presidente dell'Unione Sportiva Acli, nonché coordinatore degli enti di promozione sportiva. Prego. Salve a tutti, ben trovo. Faccio un cappello anche per te, così ti do... Grazie. Damiano, devo dire un altro di quei dirigenti, la dico così, con cui abbiamo condiviso anche la candidatura sua, anzi siamo stati tra coloro sempre, diciamo, promotori, che il segnale anche in quel caso lì era dare discontinuità, no? Bene, la rappresentanza, perché comunque è l'unico organismo, come voi sapete, che è riconosciuto allo statuto sul livello nazionale, il coordinamento degli enti di promozione sportiva, ma con un'idea, non pretendo di dire un mandato, perché chiaramente poi come coordinatore Damiano ha il diritto di svolgere autonomamente anche quella rappresentanza, però per coloro, per quegli enti che lo hanno, diciamo, promosso più convintamente, guardo Gianni, il PGS è stato anche un altro di questi, con, appunto, se non altro, un taglio, un taglio preciso, che sta un po', diciamo, ed è sintetizzato in quel documento e mi permetto di dire con le ACLI, come anche con altri, ma soprattutto con US ACLI e ACLI, un movimento che con noi ha condiviso spesso, appunto, anche una visione di mondo, non soltanto il comparto necessariamente sportivo. Te la parola. Grazie, grazie Vincenzo, grazie a tutti, mi sento un po' a casa, perdonatemi, perché la mia vicinanza, diciamo, col mondo WISP nasce da quando io sono entrato nelle ACLI, i miei predecessori, Cucciniello, Menna, tutti i miei predecessori hanno sempre avuto ottimi rapporti e quindi comunione di intenti, diciamo, e di lavoro col vostro mondo. Non mi ripeto sostanzialmente su troppe cose, che forse tante cose che saranno state dette anche questa mattina, parto un po' dal titolo Movimenti Coraggiosi, mi ha colpito, è bello, perché in questo momento ci vuole veramente molto coraggio a fare quello che facciamo noi. Diceva Gianni, abbiamo il navigatore che ci indica strade diverse, perché hanno messo una rotatoria, un senso unico, nuovo. In realtà molte volte ci troviamo, ho l'impressione come di trovarci in un'area non coperta dal satellite, per cui rimaniamo proprio a vista e navighiamo un po' a vista. E quindi il percorso è difficile, il percorso è oscurato, ma l'obiettivo lo conosciamo, ma perché noi portiamo radici di 70 anni, di 75 anni delle nostre organizzazioni, per cui il percorso è tracciato dentro di noi, che a volte viene banalizzato, ah sì, quelli degli enti, ah soprattutto quelli di quei pochi enti e ci individuano sempre. Io immagino quando parlano di noi fanno di tutta un erba un faccio, per fortuna dico, accomunando gli enti che sono seduti intorno a questi tavoli e che sono sempre più vicini. Ma ripeto, il nostro obiettivo è tracciato, è un solco che abbiamo, no? Quindi quando ci prendono in giro, ah sì ma tanto parlano di sociale, sì ma tanto parlano di inclusione, tanto parlano di questo e dell'altro parlano. No, non parliamo solamente, perché noi le attività le facciamo, siamo nei campi e le facciamo. Ma ritorno un attimino su quella mancanza di campo, di satellite che ci fa navigare un pochino a vista. E da qui vi assicuro veramente bisogna essere coraggiosi, perché non lo dico adesso per spirito di solidarietà verso un lavoro comune che quotidianamente facciamo, ma vi assicuro che la rete di relazioni, di rapporti, di reti che stiamo tessendo a livello, come dire, nei più disparati livelli, adesso li andremo ad esaminare, per far sì che poi quell'obiettivo che noi vediamo lontano, ma del quale non vediamo la strada per arrivarci, perché ripeto ci cambia in continuazione, noi ce l'abbiamo sempre ben presente ed è coraggioso per seguirle queste strade. Perché vi assicuro sarebbe molto più facile delle volte accordarci su una posizione già comoda, presa, rilassata, sarebbe molto più comodo, ma non è nella nostra missione. Sicuramente ne avete trattato i temi già questa mattina, ma ne abbiamo parlato molte volte, cioè in questa fase in cui sta cambiando il sistema sportivo con quattro righe in una legge nella quale noi non troviamo neanche la menzione enti di promozione sportiva, per cui la fatica a capire come interpretare. Dall'altro lato una riforma del terzo settore che sta galoppando, sta andando avanti, quando leggiamo no, è ferma, si fa, non si fa, si fa, ci siamo, siamo a tre quarti, manca il registro unico e dei chiarimenti ultimi, ma ci siamo. Anche lì un mondo che sta cambiando e noi abbiamo avuto la visione, perché sempre in quella mancanza di campo, di satellite, però noi la visione qual era? Era sempre quella di pensare, ma come? Ma noi siamo quelli che fanno il sociale, l'inclusione, la crescita personale, la maturazione, eccetera, eccetera, tutti i temi a noi ben cari, attraverso lo sport. Ma perché tenere questi due mondi separati? Attenzione, sta cambiando il sistema sportivo, sta cambiando il sistema del terzo settore. Non siamo menzionati da una parte, non siamo menzionati da un'altra, un attimino. E da lì il lavoro coraggioso di stare sui tavoli, di partecipare, assicuro che è faticoso stare. Vincenzo nel Consiglio Nazionale del terzo settore si è battuto per una sorta di sottocommissione della consulta sport, turismo e tempo libero, giustamente perché? Perché la Commissione Cultura, Sport, Turismo, Tempo Libero, c'ha tutto il mondo delle APS, Agri, Arci, i nostri fratelli e compagni d'avventura, ma sempre lo sport non assorgeva mai a questo livello. Per cui il lavoro per ottenere una sorta di subcommissione dove poter andare a trattare i nostri temi, noi personalmente non intermediati rispetto da altre figure. E per cui il grosso lavoro che ha portato, devo dire, c'è stata la presenza anche di Gabriele Sepio questa mattina, per cui questo significa che è un lavoro che comunque sta portando a termine, sta portando i suoi frutti, è un lavoro tangibile. Per cui tutto questo lavoro di interpretazione dello scenario, a me è quello che è faticoso, assicuro. Noi quando ci sentiamo ci facciamo telefonate a qualsiasi ora del giorno o della notte, eccetera, perché se c'è un qualcosa che esce, ma tu come la vedi? Tu come la interpreti? Cosa pensiamo? Quale può essere il punto di vista? Perché non avendo, ripeto, la strada tracciata da qua a là, la dobbiamo necessariamente interpretare, dobbiamo pensare, capire, logorarci un pochino il cervello per capire come arrivare lì, con quale modo e con quale strada e abbiamo, come dire, naturalmente concordato attraverso di noi che quel sentiero che porta ad una riforma del terzo settore, ad una riforma del sistema sportivo deve necessariamente prevedere un'area, una piazza, una corà nel quale c'è un campo sociale che opera attraverso lo sport. Cioè è il punto di incontro tra i due mondi. E quel punto di incontro lo stiamo facendo in modo, con molto sforzo, di cercare di decifrarlo, di capirlo, di interpretarlo. E qui la visione è ancora di più visione, perché abbiamo anche Andrea Mancino oggi qui, che ci ha parlato di registro, che ci parla di coni, abbiamo, come diceva Gianni, dice ma con chi lo occupiamo, tra virgolette, con chi riempiamo, con quali contenuti riempiamo questa terra di mezzo, questo punto dove si incontrano i due mondi, sembra un po' un'area nel quale due continenti si vanno a incontrare, con i soggetti che devono necessariamente avere un solo minimo comune denominatore, un solo filo comune, che è quello di operare correttamente nello sport e nel sociale. La cosa più semplice e più chiara di questo mondo significa solo avere dei compianni di viaggio trasparenti, con i quali sederci, con i quali stabilire 5 regole 5 che fanno sì che non facciamo la corsa, ma non entro in polemiche stupide e sterili, non la corsa, la tessera a un euro, a un centesimo, a settimo, quello rovina tutti, perché quello abbassa il livello comunque di tutti e quindi ci porta veramente a svenderci per nulla. Allora no, manteniamo una posizione, un sasso nello stagno l'abbiamo lanciato, sapete benissimo, non mi soffermo su quello, però abbiamo voluto dare un segno forte di essere presenti con dei valori e con un'identità, a quel punto cominciamo a provare a gestire e a guidare un po' questa transizione, questo passaggio verso quest'area che non sarà più di mezzo ma di collegamento tra i due mondi, per cui non più una logica verticale, come diceva Gianni, ma una logica orizzontale, cioè chi c'è, sia esso federazione, sia essa disciplina sportiva associata, sia essa centro di promozione, sia essa APS nazionale o rete associativa, come sapete e come vedremo adesso nella nuova conformazione del panorama del terzo settore. L'importante è che siano persone, soggetti, enti di buona volontà che vogliano solo raggiungere questo fine ultimo che è quello di far crescere il sistema sociale attraverso lo sport. Ora, a parte le belle frasi che comunque tutti noi sappiamo, ma lo stiamo, penso, spero, dimostrando con atti concreti, con già dei grossi punti d'unione, ripeto, lo vediamo, oggi abbiamo il mondo CONI, il mondo ente di promozione, il mondo ministero del lavoro, tutti seduti in questa assise per parlare di questi contenuti, quali sono questi contenuti, e dire come andiamo a riempire questo punto di collegamento, questa fase, questa comunione tra mondo dello sport, mondo della promozione sociale, non sono, vedi, mondi diversi, sono mondi che attraverso di noi, attraverso altri compagni di strada, appunto, che andremo, però devo dire che con un po' di snobismo, consentitemelo, andremo a selezionare, perché, permettetemelo, perché dopo tanta fatica e dopo tanto lavoro, io dico sempre, con orgoglio, noi siamo il terzo ultimo ente di promozione sportiva, forse il penultimo, e abbiamo il nostro primo ente di promozione sportiva, ma sono storie che ci portiamo da 70 anni, nessuno ha mai cambiato niente dal giorno alla notte, noi siamo rimasti piccoli, voi siete rimasti grandi, perché ognuno lavora con questa macchina, c'è questa macchina in dotazione, la corregge, la giusta, la porta dal meccanico, la sistema un pochino, ma quella è la macchina, io dalla mia 500 non posso avere una Ferrari domani, mattina, qualcosa non c'è, o l'ho comprata al mercato di contrabbando, è successo qualcosa, per cui non è possibile, e allora a questo punto dico, beh, continuiamo insieme su questa strada, a mio avviso, forse adesso un pizzico di ottimismo, ho visto anche i risultati di questi impegni, di queste assise, di queste comunioni di intenti, forse un pizzico di ottimismo, comincio a metterlo, forse dico che tanti sacrifici ne vale la pena farli, continuiamo a farli, vi ringrazio dell'ospitalità e buon lavoro a tutti, grazie. Grazie a te, grazie a te.